allora ragazzi oggi abbiamo un po di pacchi da aprire che mi hanno inviato ringrazio e ringrazio massimo e ringrazio flora per l'ospitalità che se ne è fatta mandare lei a casa sua poi c'è tutte queste robe qua che mi ha regalato già luca di persone è venuta a portarmi vediamo dopo apriamo il pacco allora vai dove vai luna ma hai paura del taglierino allora andiamo a vedere quanta roba mi ha portato per giama ciao giammo ho messo nel pacco vari prodotti tovaglioli spazzolini così da poter contribuire nel mio piccolo a farti star bene questo pacco è donato con il cuore da amico camperista da amico full timer io continuo a seguire i tuoi video chissà forse un giorno riuscirò ad andare a vivere in camper resta a tua disposizione quando vuoi fare due chiacchiere ci possiamo sentire a breve ti spedirò l'altro pacco di prodotti mangereci ciao a presto da max pelle da croton adesso qua vediamo un po come farlo rimettiamocelo qua allora tovaglioli 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 praticamente abbiamo una scorta luna forever poi sacchetti spugna master questo cos'è crema mani vellutante idratante rock ah no le mascherine bro pazzesco bagno schiuma doccia salviette detergenti igienizzanti dentifricio ma no ma che figata hai mini grattugia ah massimo ma sei un pazzo fuori stuzzicadenti antivirus igienizzante e mali antivirus niente voilà due spazzolini nuovi top mollette lavapiatti credo si non c'è più spazio nel mondo l'uno cazzo questo cos'è questo filo per bucato ma grande cazzo sapone per le mani questo è per fare il bucato oh madonna tanta roba mi hai mandato bro che un pazzo questo è un altro sapone per il bucato rock non ci sta più niente l'uno carta da cucina scottex ma che storia adesso però sarà un casino far vedere le altre cose perché dovrei rimettere tutto dentro e poi me le sistemo con calma non so se mai riuscirò a rifare il pacco che ha fatto lui questa roba qua è una figata pazzesca comunque io ce l'ho ma è gigante mi sa che l'ho incastrato in male ma questo è top facemask non ci credo madonna poi ci guardiamo per sistemarlo bene aspetta grande max pelle da crotone davvero top poi ci guardiamo pure lì invece Gianluca ci ha portato pantaloni questo è un appolo questo è un appolo questo è un appolo questo è un appolo pantalone corto questa cos'è invece? questa è tipo una una giacca credo adesso vedremo come fare allora so che c'è lo dico sempre però sembra tutto così assurdo adesso me ne manderà un'altra di roba da mangiare quelle praticamente con le grande maxpell con i prodotti specifici calabresi grazie anche a gianluca per il vestiario non lo so non mi sembra di dare così tanto nel senso proprio quando incontro le persone oppure quelli che mi scrivono che hanno cioè si offendono se gli dico di no tipo gianluca adesso ma questa va racconto lui lavora nella motogp e lui mi dice io vedo sempre valentino rossi dal vivo ma non mi fa nessun effetto però già ma quando ho visto te ero talmente emozionato sono contento sono contento perché a parte che mi sembra assurdo a me sta roba comunque cioè sono proprio contento perché vuol dire che come ho detto negli altri video cioè qualcosa porto le persone no? lui mi dice io la sera quando torno a casa sono lì che mi guardo tutti i tuoi video cioè ragazzi mi sembra di vivere un sogno davvero ma lo sto vivendo il mio sogno però non so se merito tutte queste robe qua che fate per me davvero cioè anche Flora ringrazio Flora che mi ha dato l'appoggio per farmi spedire i pacchi qua ma infatti gliel'ho detto a Flora il prossimo pacco di cibo almeno metà te lo devi prendere solo per quello che stai facendo anche per me per la compagnia che mi regali quando vieni qua che stiamo in camper ci mangiamo due cose facciamo le storie passiamo la serata insieme comunque bro sto vincendo mi sa nel senso che la strada giusta sto seguendo la giusta strada bro ma vediamo come il sistema ha cioè ma guarda non è che me lo sono auto inviato il pacco eh questa è la roba di Gianluca e lì ci sono le cose del bro massimo che mi ha inviato no ve la rifaccio rivedere perché secondo me è scurdo allora ringrazio nuovamente Massimo e Gianluca e tutte le persone che da due anni e mezzo a questa parte mi hanno inviato le cose perché lo volevano fare io non ho mai chiesto un cazzo lo sapete perché io non chiedo mai niente nel senso io se io mi arrangio in senso un modulo trovo sempre non c'è nessun problema quindi grazie a tutti veramente di cuore e ora mi sono emozionato e quindi noi ci vediamo come sempre al prossimo video